E' chiarita profondamente, non voglio parlare di un'indagine che sta condizionando la magistratura ma è evidente al tempo stesso che leggendo almeno dai giornali i nomi degli interessati mi sembra che la prevalenza sia di esponenti del centro-destra. Allora se si fa del dossieraggio per poi mettere in piedi una macchina del fango per poi andare a colpire esponenti del centro-destra o anche comunque esponenti che non hanno magari santi protettori in certi ambienti beh insomma mi pare una cosa abbastanza squalificante che deve essere vagliata in tutte le sue forme che se assume rilievo penale abbia le conseguenze del caso e soprattutto rimane da capire se dietro tutto questo ci sia soltanto una persona o ci siano anche dei mandati. La Procura però è scluso che si tratti proprio del termine dossieraggio e anche che ci sia una questione relativa a una macchina del fango o a possibili tentativi poi di corruzione o di ritorno a conto economico. Facciamo che ne parliamo alla fine dell'indagine. E' un problema per la democrazia? Beh che indubbiamente è un problema per la società visto che non è solo la politica interessata ma più vari settori della società non mi pare che sia una pratica che non possa non essere censurata. Ha fatto un'idea sui possibili mandanti? No, quelle le deve fare chi fa le indagini non è che fa Sirlo Holmes. Ma secondo lei c'è da dividere la questione della finanziere della possibile fonte e quella del giornalismo? Il giornalismo d'inchiesta deve rimanere indipendente da questo punto di vista e non toccato da possibili mandanti? Il giornalismo d'inchiesta è sempre stato tutelato e sarà sempre tutelato ma il giornalismo d'inchiesta ha un limite invalicabile quando non via le norme. Del resto se fosse un attentato, come qualcuno dice, alla libertà di stampa significherebbe che ci sono organi dello Stato che mettono sotto inchiesta le persone per attentare alla libertà di stampa. non mi pare che sia molto coerente soprattutto con chi giustamente ha sempre ritenuto di non dover condizionare l'attività della magistratura. Secondo lei anche il caffiero De Rao deve chiarire? Mi pare che sia vicepresidente della commissione antimafia. È un problema suo, non mio. Senta Foti, posso chiederle anche delle forze politiche? Vi siete messi d'accordo sulla missione Aspident, soprattutto AVS che voterà il voto. Adesso aspettiamo di vedere il voto finale sulle emozioni così almeno capiamo cosa succede perché allo Stato mi pare che ce ne siano presentate notevoli da parte dell'opposizione. Però il governo ha dato parere favorevole a quella del Movimento 5 Stelle quindi potrebbe avvicinarsi un voto dei 5 Stelle. Se così fosse, proiettiamoci su un voto positivo in cui solo AVS dice di notte. Io sono il primo a dire che se in politica internazionale e su vicende che attengono la politica internazionale e più vastamente su vicende che attengono il ruolo dell'Italia nello scacchiere internazionale c'è il più ampio consenso parlamentare ne sono solo felice. Grazie. Grazie.